Quella è Galatina, più avanti invece a 5 km appena c'è Soleto, ed è qui in questi capannoni che dovrebbe sorgere un nuovo inceneritore. Lo chiamano impianto per la valorizzazione dei rifiuti, ma in realtà sarà un inceneritore che servirà a bruciare particolari tipi di materiali per provare a produrne di nuovi. L'Avon, impianti e processi SRL milanese, ha chiesto di farlo sorgere proprio qui, in questi capannoni presi in affitto già nel 2008 e a materia strada perfetta, appena 5 km, dei centri abitati di Galatina e di Soleto. C'è un po' di tensione quando arriviamo il proprietario dello stabile, non vuole rogne. La richiesta parla di un impianto pilota per test che può bruciare un massimo di 100 kg all'ora di rifiuti. Viceversa, si legge nella relazione tecnica, quando vengono testate biomasse la capacità arriva a un massimo di 250 kg all'ora. Lo scopo è chiarissimo. Qui, nella zona industriale di Soleto, si vorrebbero provare le più svariate matrici solide, a seconda delle richieste o delle campagne di ricerca, purché compatibili con la macchina e non siano nocive. Ma nonostante ci sia la supervisione di ingegneri del Politecnico di Torino, questa è una rassicurazione che a cittadini, comitati e amministratori sembra non bastare. I progetti che ci presentano sono progetti tutti che stanno all'interno delle norme, che stabiliscono i valori di emissione. Allora cosa bisogna fare? Logicamente, se l'impianto viene studiato, viene chiesta l'opinione soltanto sotto l'aspetto tecnico, non può essere rifiutato. Se il nostro territorio è un territorio inquinato al massimo, perché poi proprio su questo triangolo ci sono il 50% delle aziende che stanno nella provincia di Lecce che inquinano e sono sistemate proprio qua, non si può aprire un'altra azienda. L'impianto dovrebbe restare in funzione massimo 72 ore in continuo, bruciando 2,4 tonnellate al giorno di materiali. In che modo? Della combustione di biomasse e rifiuti si dovrebbero ottenere tre miscele per arrivare a prodotti finali e campioni come la malta per intona accomuratura, calcestruzzo, conglomerato bituminoso o il sottofondo stradale legato col cemento. Insomma, un inceneritore per sperimentare il recupero di scarti. Già, ma quali sono questi scarti che devono essere inceneriti? Si parla di tre tipi di biomasse, tre tipi di rifiuti contenenti silicati, cinque tipi di rifiuti con sostanze organiche e altrettanti contenenti addirittura metalli pesanti. Certo che le voci riportate in questa tabella non sono voci per niente da poco. Si va dai fanghi di lavorazione alle polveri di abbattimento dei fumi delle fonderie acciaierie, ai fanghi ceramici conciari e tessili, fino alle ceneri del carbone. Non c'è nessuna indicazione, nessuna parametrazione sulle emissioni che ne verranno fuori. Anzi, proprio perché si tratta di un progetto pilota esperimentale, le emissioni saranno controllate successivamente alla combustione per vedere se rimangono nei parametri. La patata bollente delle autorizzazioni spetta alla provincia di Lecce. Ma sapete qual è la ciliegina sulla torta? Proprio perché un impianto pilota non è neppure assoggettabile a valutazione di impatto ambientale, tanto meno ad autorizzazione integrata ambientale. E dopo la richiesta di CDR alla Colace, i cittadini di Soleto e Galatina non vogliono essere considerati ancora delle cavie.